Al via la stagione dei saldi estivi e come ormai accade da qualche anno a questa parte si parte subito con delle grosse percentuali di sconto, il minimo è il 50%. Secondo l'ASCOM ogni aretino spenderà mediamente 115 euro a testa, il giro di affari però complessivo si stima in 11 milioni di euro, ma andiamo a sentire se e perché gli aretini acquistano appunto durante il periodo dei saldi. Se compro i saldi si, se qualcosa di interessante si, perché poi è anche divertente che c'è tanta gente, tanta confusione, a me piace stare nella gente, si io compro i saldi si. E' giusto che i commercianti confidino diciamo in questo periodo per rimpinguare un po' le casse diciamo? Sarebbe bene vendere sempre, io trovo che i saldi sono un po' troppo presto come commerciante, però gli auguro che ormai ci sono e che vada tutto bene. Frequenta gli esercizi commerciali normalmente? No, solo i saldi, per un risparmio. Le categorie merceologiche che preferisce? Abbigliamento. Beh, perché si comprano le stesse cose pagandole meno. Quali sono diciamo le categorie merceologiche che cerca di più? Abiti, scarpe. Secondo voi è conveniente comprare i saldi, cioè è una vostra abitudine? Sempre. Certo? Che cosa cerca di solito? Ma vestiti, abiti, sì, sinceramente sì. E occhiali anche. E occhiali, anche occhiali da sole, da vista. Sì, è un'abitudine come penso un po' per tutti e per ovvi motivi economici, anche se ho bisogno di qualche cosa, se c'è qualcosa che mi piace in particolare, compro anche al di fuori di questo periodo. Cosa cerca di solito? No, cerco per i miei figlioli perché sono cose più piccine queste. Per me si trova poco. Perché c'è di buoni prezzi, soprattutto per questo, certo. Aspetta questa stagione o comunque si ha bisogno o comunque si compra? No, in genere aspetto questa stagione. Per risparmiare un po'. Beh, beh sì.